Finalmente dopo tanto tempo siamo riusciti a dotare la nostra barca di 10 remi nuovi che serviranno per gli allenamenti che partiranno sabato prossimo qui dal Paglio di Taranto. Questa esperienza che abbiamo fatto, che abbiamo intrapreso qualche anno fa, che è riferita alla barca di 10 remi, è sicuramente un elemento aggiunto alla nostra attività sportiva perché va ad affiancarsi ai tornei a due remi che abbiamo fatto e che facciamo da 20 anni, che la nostra remiera ha ideato nel 1986 e che ad oggi, grazie alla collaborazione di tutti quanti i vogatori, fra le altre cose approfitto per dire campioni regionali perché il nostro equipaggio femminile è stato il primo equipaggio a giudicarsi il trofeo dell'Adriatico. Quindi oggi riprendiamo questa nostra attività, l'attività del mare che noi proviamo ormai da tantissimi anni e cui ci crediamo veramente a questo sviluppo turistico che può essere ovviamente nell'ambito del mare. Invito naturalmente tutti quanti i cittadini di Taranto a venire a provare i nostri remi, le nostre barche perché fra le altre cose come il Paglio di Taranto ormai da tantissimi anni mette a disposizione a tutti quanti, sia ragazzi che anche adulti. Grazie a tutti.